TdWidoo 3 5 di 170 C88 e 1817 rando.td a ranking texta linea. Left. TdWidoo 3 5 di 170 C88 e 1817 rando.td a ranking margin. 0 auto 0 bar TdScreenVidt uguale window.innerVidt. If TdScreenVidt uguale 1140 document.vrit minore insclass uguale adsb.google style uguale display. In linea block. Dilt. 300px. Eilt. 250px datadclient uguale kpab 80 06 89 34 32 47 87 10 datadslot uguale 93 95 98 89 64 ins. Adsb.google uguale window.adsb.google. Push. If TdScreenVidt uguale 1019 e TdScreenVidt 1140 document.vrit minore insclass uguale adsb.google style uguale display. In linea block. Dilt. 300px. Eilt. 250px datadclient uguale kpab 80 06 89 34 32 47 87 10 datadslot uguale 93 95 98 89 64 ins. Adsb.google uguale window.adsb.google. Push. If TdScreenVidt uguale 768 e TdScreenVidt 1019 document.vrit minore insclass uguale adsb.google. style uguale display. Adsb.google. Push. If TdScreenVidt 768 document.vrit minore insclass uguale adsb.google style uguale display. In linea block. Dilt. 300px. Eilt. 250px datadclient uguale kpab 80 06 89 34 32 47 87 10 datadslot uguale 93 95 98 89 64 ins. Adsb.google uguale window.adsb.google. Adsb.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google Molte donne sono alla ricerca della dieta giusta per perdere peso last minute. Tra le tante che si possono provare, c'è la dieta dei tre giorni. E' un regime alimentare studiato a metà degli anni Ottanta, nella Cleveland Clinic di Cleveland, in Ohio, che punta a diminuire l'apporto calorico per tre giorni su quattro durante la settimana, promettendo una perdita di peso fino a 4,5 kg a settimana. Continua dopo la foto, ti di guido 2 5 di 170 c 88 e 16 a brando.td a ranking text line. Left. Ti di guido 2 5 di 170 c 88 e 16 a brando.td a ranking margin. 0 auto 00 gogletag.cmd.push.gogletag.display.dgpt ad 1 5 4 7 0 2 3 4 6 2 4 5 9 0. Dieta militare. Si tratta quindi di un regime alimentare adatto a chi punta a dimagrire molto in poco. tempo, e a presentarsi in perfetta forma alla prova costume, ma che proprio per questo, va seguito solo dopo aver sentito il proprio medico. La rapidità del calo di peso è dovuta al fatto che, seguendo nelle indicazioni, per tre giorni a settimana, si ridurranno. Le calorie giornaliere ingerite a un numero davvero minimo, che oscilla tra le 600 e le 1000. Dieta dei tre giorni e perdi quasi 5 chili per questo la dieta dei tre giorni della Cleveland Clinic non è indicata per chi abbia sofferto di disturbi alimentari, o per persone che soffrano di importanti problemi cardiaci. In concreto, la dieta dei tre giorni segue uno schema in cui le calorie sono ridotte al minimo, ma c'è anche una buona varietà di alimenti, privilegiando quelli con proprietà disintossicanti. Le uniche bevande che potrete usare nei tre giorni di dieta saranno acqua, caffè o tè. Gli unici condimenti permessi sono sale e pepe. La dieta prevede solo tre pasti giornalieri, colazione, pranzo e cena, senza altri spuntini nel corso della giornata. I pasti più abbondanti sono la colazione e la cena, mentre il pranzo è il momento più leggero e veloce. La divisione dei giorni per quanto riguarda gli alimenti consentiti, sono vari. Il primo giorno si può partire con una colazione che prevede, oltre a una delle bevande menzionate, metà di una. Pompelmo o succo di pompelmo rosa una fetta di pane tostato con uno o due cucchiaini. di burro d'arachidi. Il secondo giorno potete variare accompagnando caffè o tè con un uovo. Una banana, mentre per il terzo giorno, l'uovo può essere sostituito da una fetta di formaggio che par. Il secondo giorno potete fare con un uovo. Grazie a tutti.